Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Fallout 4 in questa nuovissima guida in cui vi voglio mostrare come poter ottenere la vendetta del generale Chao, un'arma unica, una versione unica di una spada rivoluzionaria, la cui peculiarità sarà quella di infliggere il 50% di danni extra contro i nemici robot. E vi dico già adesso, questa spada, quest'arma, la dovrete acquistare coi vostri soldi, quindi naturalmente più carisma e più perk per il commercio avrete, meno alla fine la pagherete. Ma non sarà tutto così semplice, questo perché c'è anche un piccolissimo rischio di perderla per sempre. Capirete meglio nel corso di questo video. Innanzitutto, richiamoci presto al ristorante Drumlin, una tavola calda che si trova molto molto vicino alle prime aree di gioco, quindi non sarà troppo lontana da raggiungere. E una volta arrivati a destinazione, la prima volta che raggiungeremo questo posto, potremo notare che è in corso un litigio tra Wolfgang e Simeon, ossia due spacciatori, e Trudy, la proprietaria del ristorante. In breve, i due spacciatori hanno venduto delle droghe al figlio di Trudy e lei non vuole pagare. Il riassunto è questo qui. E voi, naturalmente, potrete aiutare a mettere fine alla discussione. Potrete parlare con entrambi e ognuno vi dirà la propria. Nel caso di Trudy vi chiederà di eliminare i due spacciatori, nel caso dei due spacciatori vi chiederanno di riscuotere i soldi da Trudy. E non è tanto vincolante la scelta che farete. Potete anche sfruttare le varie opzioni di dialogo, sfruttando le sfide e eloquenza per rendere tutto più facile. La cosa veramente importante, però, è che alla fine del tutto, Trudy sopravviva. Questa è l'unica cosa importante. Quindi, fate quello che volete, fatela sopravvivere, alla fine andate a parlare con lei e avrà in vendita la vendetta del generale Ciao. Acquistatela e il gioco è fatto. Dunque, ragazzi, per quanto riguarda il come ottenere la vendetta del generale Ciao è tutto. Come al solito, io vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero che questo video sia stato il vostro gradimento e vostra utilità. Pertanto, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non lo aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici appassionati di Fallout 4 e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!